Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale, consueto, della mia libreria. Allora, 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 cari signori, dopo tante volte in cui mi è stato chiesto di parlarne, alla fine mi sono deciso ad affrontare un argomento sul quale ammetto di sapere veramente poco. Dov'erossia, mi è stato chiesto più volte di parlare di questo signore, questo ufficiale, eccoli, questo ufficiale dei carristi tedeschi, questo ufficiale tedesco della Panzerwaffe, il cui nome è Alfredo Carpaneto. Sì, questo signore si chiamava Alfredo Carpaneto ed è stato un grande asso della Panzerwaffe, un grande asso dei carristi tedeschi. era ovviamente di origini italiane, era nato a Roma il 4 gennaio 1915 e morì il 26 gennaio 1945 a Gurevsk in Russia, nell'attuale Russia. Chi era, costui, chi era Alfredo Carpaneto e soprattutto perché un giovane romano si ritrova, come dire, si ritrova, come dire, arruolato nella Wehrmacht, nelle forze corazzate della Wehrmacht. Allora, il discorso è semplicemente questo. Io, sulla figura di Alfredo Carpaneto, so poco o niente. Mi aveva incuriosito la storia di questo asso italiano dei carristi tedeschi, più di una volta mi è stato chiesto di parlarne e oggettivamente ho cercato in giro delle fonti. Chi era, cosa faceva, quali erano le sue scelte, perché fece la scelta di arruolarsi così. Allora, il discorso è semplicemente questo. Come ho già detto, Carpaneto è nato, nacque a Roma il 4 gennaio 1915 e morirà a 30 anni, compiuti da poco, il 26 gennaio 1945. Dal poco, allora, mettiamola così, su di lui, su internet, si trova una discreta quantità di materiale. Ma oggettivamente è materiale non so quanto affidabile. Perché? Perché quasi tutti i siti, quasi tutti i siti che ne parlano, sono siti, oggettivamente, orientati politicamente molto a destra e sono siti sulla cui affidabilità storica, non perché siano di destra, ma sulla cui affidabilità come fonti storiche, ho più di qualche dubbio. Consentitemi di dirlo. Insomma, cari signori, vi faccio un esempio pratico. Non potete pretendere da me che io parli bene della Juventus e non potete pretendere da me plausibilità, sincerità, equidistanza ed equilibrio sulla Juventus. Che si vinca o che si perda, forza Inter, Juve merda! Questo è sempre stato il mio motto. Abbiate pazienza. E dicevo, quindi, non mi si può chiedere, come dire, equidistanza, equilibrio, rigorosa applicazione. Insomma, insomma, siamo sinceri. Quando si tratta di certi siti, occorre veramente, veramente, veramente andarci molto, molto cauti e maneggiarli con i guanti da saldatore e le pinze da vetraio. Perché, mettiamoci la verità, spesso e volentieri non hanno, come dire, non nascondono neanche la voglia di fare propaganda politica. Ecco, è quello che voglio dire. E io, dai siti di propaganda politica, sia di là che di qua, ne sto decisamente lontano. Perché? Perché se qualcuno mi ha detto che nei miei video, incredibile a dirlo, sono una persona che fa le cose con rigore e serietà, pur con tanti limiti e pur con tanti difetti, scusate se lo dico, voglio continuare a mantenere questa fauna. Allora, chiusa questa parentesi, torniamo alla storia di Alfredo Carpanetto. Allora, ripeto, io ne so decisamente poco, quindi, cari signori, chiedo aiuto a voi. Ditemi qualcosa a proposito di questo benedetto uomo, a proposito di Alfredo Carpanetto. Di lui, come dire, di lui, so che era andato da giovane a Vienna, essendo figlio di madre austriaca, so che Carpanetto era andato a Vienna, alla fine, diciamo, verso gli anni 30, per studiare all'Accademia di Vienna, per studiare pittura, era un valente pittore, era un bravissimo pittore, e si ritrovò coinvolto nell'Anschluss. Che vi devo dire? Essendo di madre austriaca, parlava bene il tedesco, molto probabilmente, però, ripeto, sui siti che ne parlano, sui documenti che ho trovato su internet, c'è oggettivamente il trionfo del forse, del pare, del sembra, c'è poco di certo, c'è poco di concreto sulla storia e sulla vita di Alfredo Carpanetto. E' per questo, cari signori, che chiedo aiuto a voi. Le uniche fonti certe sull'operato di Carpanetto come carrista vengono dalle memorie di un altro grande asso dei carri armati tedeschi, ovvero sia il leggendario Otto Karius, ve lo ricordate? Quello che, come dire, ce l'aveva un po' su con Wittmann perché lo giudicava un cazzone, vabbè, lasciamo stare. Dicevo, Otto Karius, Otto Karius, nelle sue memorie, in Tigre nel Fango, parla estesamente di questo suo collega, di questo commiltone di origine italiana, descrivendolo come un bravo soldato, come un bravo carrista, come persona inadatta, lo descrive come persona inadatta alle parate, ma veramente gagliardo in battaglia. Questo è quello che diceva Otto Karius a proposito di Carpanetto, uomo con cui il più grande asso carrista tedesco ha combattuto e ha passato alcuni anni in servizio. Insomma, signori, che vi posso dire? Io sinceramente non lo so. Sui motivi che hanno spinto Alfredo Carpanetto ad arruolarsi nella Wehrmacht, nella Panzerwaff, lasciando perdere colori e pennelli, io non lo so. Non so nulla della sua vita. Ripeto, il materiale che ho trovato su di lui è il trionfo del forse, del pare, del sembra, del non si sa, del si dice che. E oggettivamente è un po' poco per parlare di questo personaggio. Se ne conosce la data di nascita, se ne conosce la data di morte, si sa che il suo palmarès ammontava a una cinquantina di carri armati distrutti, viene descritto come uomo molto, cioè, ripeto, uomo molto poco formale, molto poco portato alle parate e all'estetica militare, ma era uno che badava al solito, badava al sodo e badava soprattutto a combattere. Parola di Otto Carius e se lo dice lui, oggettivamente, presumo che ci sia da credere. Ma per il resto, ripeto, il sottoscritto di Alfredo Carpaneto ne sa poco o niente. Valente pittore, so che era un valente pittore, so che studiava all'Accademia di Vienna prima dell'Anchelus. si dice, pare, forse, sembra, che abbia optato per la cittadinanza o austriaca o tedesca dopo aver lasciato l'Italia, ma questa è una cosa che non è chiara. Ripeto, le fonti sono discordanti. Quello che ho letto su internet, ripeto, si dice che abbia richiesto la cittadinanza tedesca, si dice che avesse la doppia cittadinanza italiana e austriaca, si dice che si arruolò a forza, si dice che si arruolò per convinzione, eccetera, eccetera, eccetera. Si dice, si dice, si dice, si dice. Io più dei si dice su Alfredo Carpaneto, mi dispiace, ma non posso riferire. Quindi, cari signori, adesso tocca a voi. Ditemi qualcosa, voi, a proposito di Alfredo Carpaneto, perché oggettivamente io su di lui so poco o niente. Tutto qua. Quindi, cari signori, ripeto, commentate, ditemi qualcosa a proposito della figura, della vita, della storia di questo asso italiano dei carri armati arruolato nella Wehrmacht, perché, ripeto, veramente, più di questo io non so, più di questo io non ho trovato. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!